Resta in vigore l'obbligo di indossare la mascherina e decade il coprifuoco dalle 24 senza più limitazioni di orario per gli spostamenti. Queste le principali novità in vigore da lunedì 14 giugno, quando la Lombardia, grazie al costante calo dei contagi, passerà dalla zona gialla a quella bianca. Non ci saranno più limitazioni negli spostamenti e sia all'esterno sia all'interno dei ristoranti sarà possibile pranzare o cenare per un massimo di sei persone non conviventi, sedute allo stesso tavolo e rispetto della distanza interpersonale. Riapriranno i centri benessere, le fiere, le sagre, i convegni, i parchi tematici e di divertimento e saranno consentiti i ricevimenti per matrimoni, comunioni e cresime anche al chiuso con partecipanti muniti di Green Pass. Riaprono anche le discoteche ma non per ballare esclusivamente per aperitivi o comunque momenti conviviali. Le mascherine dovranno essere indossate regolarmente sia quando sia all'aperto sia quando sia all'interno dei locali in luoghi diversi dalla propria abitazione ad esclusione dei bimbi sotto i sei anni. Non è invece obbligatorio indossare la mascherina mentre si effettua attività sportiva.